Il ministro Costa, Enrico, è una persona seria, l'ho scelta io e l'ha confermata Paolo, sono legato da lui da un sentimento di stima, credo che abbia fatto bene ad andarsene perché nel momento in cui ha detto voglio tornare con Berlusconi è evidente che non poteva stare con Gentiloni, quindi è stato coerente, è uno di quelli per cui le idee sono più importanti delle poltrone, dopodiché le sue idee non sono le mie idee, però vi va a dire avere un avversario politico che fa un gesto di questo genere molto serio e molto rigoroso, preferisco uno che fa così e gioca puito come Gentiloni gli ha detto dandogli atto immediatamente, che non quelli che stanno lì con i piedi in due staff e che cercano di vedere come conservarsi la poltrona aggrappata sperando di avere un altro giro per i prossimi 5 anni perché questo accade in alcuni costa e uno diverso, penso che se ha deciso di fare questa scelta non cambia niente per il governo che andrà a fine legislatura, ma è una scelta almeno di coerenza.